Allora, scopriamo invece come fai a scoprire se hai le corna oppure no. Allora, sicuramente avere le corna è interessante, no? Nel senso... Interessante. Ad oggi siamo un po' tutti fissati, ho visto che le mie consulenze molte persone hanno... Il 50% si può dire quasi tradiscono l'amante, eccetera, insomma va... Va di moda, va di moda. Vabbè, però come fai a scoprire se hai le corna oppure no? Allora, ci sono dei segnali di tradimento, insomma, nel linguaggio non verbale che puoi sicuramente prendere in considerazione. E questi segnali ti consentono, insomma, di giostrarti bene, di avere un po' le idee chiare e dire Ah, ok, probabilmente mi sta tradendo o probabilmente non mi sta tradendo. Quindi in questo modo ti fai le idee chiare. Allora, partiamo quindi un attimo da quelli che sono un po' i segnali di linguaggio, tra virgolette, non verbale. Ci facciamo le idee chiare. Allora, il primo segnale di tradimento è quando ci si raschia la voce, no? Per esempio, ci sono raschiamenti, quindi, della voce quando ti rivela o ti dà delle informazioni. Quindi, per esempio, le informazioni, per esempio, lui ti dice che ha fatto, non so, x cosa, quindi è stato, non so, al bar con gli amici Con gli amici e si raschia la voce in questo modo. Questo può essere già un segnale, insomma, di potenziale, tra virgolette, tradimento, ma più che tradimento fisico, un tradimento poi Quindi, in realtà, una menzogna, quindi una bugia. Altra cosa importante che lo denota, scusate che si brucia il caffè, quindi altra cosa importantissima, è il raschiarsi la voce. Raschiarsi la voce, diciamo che viene poi annesso, no? Nel senso al grattamento, quindi grattamento del tipo, grattarsi la faccia in questo modo, grattarsi così, ma non sono sicuro, fa in questo modo Questi segnali qui, no, toccarsi il collo, pruriti, in sincronia la tua domanda. Ora, perché il grattamento e il raschiarsi la voce? Perché questi due segnali vanno a denodare una, ovviamente, in consieme, diciamo, in combutta, se vuoi dire così Un'attenzione. Quindi, se tu gli fai una domanda, poi gli chiedi come è andato ieri sera e cosa ha fatto di bello, cosa ha fatto di brutto E lui dice, ah, sì, sono stato al bar con degli amici E ti risponde in questo modo, quindi si gratta la voce, si gratta il naso in questo modo E comunque, raschia la voce Questo significa che Probabilmente sta mettendo Quindi tutti questi segnali poi li devi sempre mettere anche insieme Non è che li devi vedere solo in singola Se è solo toccato il naso, allora vuol dire che mente No, si è anche toccato il naso Quindi si è toccato il naso e ha fatto anche l'altra cosa Sono entrambi segnali che mente Ok? Quindi sono segnali che devi sempre tenere in considerazione Poi, se per esempio muove gli occhi verso sinistra Ora, verso sinistra che significa? Ah, ma che vuol dire destra e mancavi? Mi confondo con sinistra e destra Allora, sinistra sarebbe la vostra destra Ok? Quindi, quando tu gli fai una domanda Lui muove gli occhi a sinistra così Quindi sarebbe la vostra sinistra, se non vado errato Allora significa che sta costruendo una risposta Quindi la sta rendendo artificiosa Se sta rendendo artificiosa la risposta Sta praticamente costruendo una menzogna in teoria, no? Ok? Poi, se invece muove gli occhi Al contrario, quindi alla tua destra Allora sta accedendo alla memoria Che sarebbe alla sua destra, sarebbe alla sua sinistra Quindi la mia sinistra sarebbe così Se io faccio così, come state vedendo Sto muovendo gli occhi verso la mia sinistra Quindi, ok E alla tua destra Di conseguenza io sto accedendo alla mia memoria E quindi la cosa è reale Mi sto ricordando qualcosa di mnemonico Quindi che ho fatto, teoricamente Invece se guardo a destra in questo modo Alla mia destra c'è la tua sinistra Sto invece creando il ricordo Quindi sto creando una menzogna Chiedo scusa se mi prudo il naso Ma non sto mentendo Ma mi prude veramente Credo che devo essere allergico A qualcosa che ho mangiato prima Vorrei essere allergico Quindi, ricapitolando Questo semplicemente Quindi, cosa che vuoi fare Per capire se le corna? Gli fai più domande Per capire se l'altro sta mentendo Oppure no Ok? Quindi, per esempio Osservare i movimenti degli occhi I movimenti degli occhi Come ti ho appena suggerito Annessi, ovviamente A questi grattamenti Oppure i raschiarsi della voce Può insieme darti una conferma interessante Possono insieme darti una conferma interessante Quindi, l'ideale è che tu faccia un po' più domande Ok? Quindi fare delle domande E osservare quindi la risposta Al movimento degli occhi Se sta mentendo o meno Attraverso la voce Attraverso pruridi eventuali E questo metodo però Non è scientificamente valido Se vai a guardare soltanto un segnale Se vai a guardare soltanto una singola cosa Devi invece guardare il toto Cioè devi guardare più cose insieme Devi mettere insieme questi più punti Sono diversi punti che metti insieme Così che poi hai una conferma Ok? Quindi non è ovviamente consigliato A mio avviso Basare tutta la propria idea Tutte le proprie idee Sulla sola osservazione del comportamento O dei movimenti degli occhi di un uomo In quanto questi sono anche influenzati da altri fattori Ok? Perché non sempre indicano che la persona sta mentendo Quindi per avere un'idea super chiara Devi avere dei punti che vanno insieme Devono essere dei check mark Cioè dei punti da mettere insieme Quindi punto 1, punto 2, punto 3 Se tutti e tre sono ceccati Allora puoi dire che forse sta mentendo Quindi tutti e tre questi punti hanno la conferma Tutti e tre questi punti sono stati validati Quindi si è toccato il naso Ok Ha raschiato la voce Ok Ha guardato in alto Verso la mia sinistra Cioè la sua destra Alla sua sinistra Alla sinistra Cioè la tua destra Sì In questo modo Ve lo faccio vedere perché io poi mi incoglionisco Ecco in questo modo Allora Quindi la Mia destra Quindi di te che guardi Alla tua sinistra Sto mentendo Sì C'è anche questo segnale Quindi di conseguenza Questo segnale va a confermare Che potenzialmente c'è la menzogna Forse questa persona Sta mentendo Sta dicendo una Catervata di stronzate Ok Ora Come ti devi confortare Quindi quando scopri che hai le corna Io personalmente sconsiglio Il Tra virgolette L'impostazione Molto Diciamo Carica di Richiesta di giustificazioni E spiegazioni Quando si scopre che una persona Ha mentito Perché questo in realtà Porterebbe soltanto alla rottura Sentimentale Porterebbe soltanto poi a Un ulteriore aggravio Di quella che è la situazione Che già Non è rosea Insomma il fatto che Ti ha L'hai scoperto A tradirti O comunque eventualmente Hai dei sospetti Ti suggerirei di comportarti Sempre nello stesso identico modo Di non alterare Né in eccesso Né in difetto I tuoi atteggiamenti Nei suoi confronti Ma lasciare Che si ripeta Sempre Questo ciclo Così che tu possa avere Più prove possibili Più prove possibili Perché poi col passare del tempo Ci saranno ovviamente Altre prove Che potrai prendere in considerazione Che sono le prove Appunto Come Che ne so Altre menzogne Quindi altri contesti Dove ti ha mentito Posizionamenti Dove vedi che è più teso Perché magari scopri Che lui torna In un certo modo In un certo modo È più teso del solito E questo si ripete per mesi E dopo qualche mese Puoi andare a sommare Tutto quello che hai scoperto Anche attraverso Questi segni In linguaggio non verbale Fargli Anche domande Che possono spaventarlo In un qualche modo Quindi lo possono mettere A disagio E che poi noti Che insomma Gli fanno raschiare la voce Gli fanno raschiare la gola Lo fanno preoccupare Tutti questi contesti Che lo portano poi A rompere No La situazione Il contesto Di benessere Che ci dovrebbe essere Fra voi due Che poi non c'è Perché magari Hai il sospetto Che ti stia tradendo Mi raccomando Iscriviti al canale Seguimi qui Sugli altri social Se vuoi davvero Sedurrò un uomo Noi ci sentiamo Al prossimo Assicurati in descrizione Di dare un'occhiata Ovviamente a tutti quelli Che sono I suggerimenti E anche ai video Poi che ti suggerisce Il canale YouTube Per continuare A migliorare